Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Nistagmo, cause e sintomi. Movimento molto rapido e involontario degli occhi. Possibili cause di nistagmo. Nistagmo è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Albinismo, alcolismo, anemia di fanconi, binge drinking, encefalopatia di vernicche, neuronite vestibolare, strabismo, trisomia 13, cause rare. Ambiopia, beriberi, cateratta, intossicazione da monossido di carbonio, ischemia cerebrale, labirintite, malattia di Kreuzfeld-Jakob, meningioma, neurinoma dell'acustico, neuroblastoma, neurofibromatosi, otite barotraumatica, pellagra, sclerosi multipla, sindrome di meniere, sindrome feto-alcolica, siringonia. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte mypersonaltrainer.it